Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, dolce cuore del mio Gesù, dolce cuore di Maria. Quanto l'odicesima stazione, il corpo di Gesù viene posto nel sepolto. Siamo arrivati a Cristo e viviamo in gioco. Avvolse il corpo di Gesù in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata della roccia, della quale nessuno era ancora stato deposto. Fermati, guarda, ritorna, ritorna alla casa di tuo Padre, senza paura. Ritorna alle braccia visperose e dolorose del Padre, ricco di misericordia, che vi aspetta. Ritorna, senza paura, eterno provizio.